Igiene, freschezza, comfort, Dimensione Casa presenta Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo dalla doppia funzione, in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Facile da installare, economico, una volta provato diventerà indispensabile nella vostra casa. Acqua T è il legame intelligente tra WC e bidet, grazie all'acqua. Scoprite una nuova cultura del bagno. Acqua T vi permetterà di provare una sensazione di pulizia, freschezza e comfort mai provati fino ad ora. Ogni vostra esperienza bagno sarà più rilassante, pulita, fresca, sana e incredibilmente piacevole. Il suo utilizzo è indirizzato a chiunque, ma è particolarmente consigliato per chi ha bisogno dell'assistenza di un'altra persona in bagno per la propria igiene intima. E attenzione, con Acqua T non avrete più bisogno della carta igienica e del bidet. Mai come in questo caso la frase, farete tutto da soli, è più che mai veritiera. Non riuscivo più ad alzarmi dal bidet. Adesso non ho più bisogno. È una liberazione. Non faccio più fatica a lavarmi. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. Acqua T è costruito in materiale plastico trattato, antibatterico, per un'igiene totale ed è adattabile a tutti i water di misura standard. Sulla tastiera di facile lettura, posizionata a lato della seduta, potrete azionare con semplicità tutte le funzioni di Acqua T. Vi offre ad esempio una seduta confortevole che può essere riscaldata alla temperatura desiderata per vincere la sensazione di freddo quando vi sedete nei mesi invernali. Ma la vera novità di Acqua T sono gli ugelli per l'igiene intima, che azionate tramite la pulsantiera a fianco della seduta. Sono due. Uno per lui. Uno per lei. Con un semplice comando, impostate l'intensità del getto d'acqua e la sua tipologia. Continuo o ad intensità variabile per una migliore azione detergente. E potrete regolare la temperatura dell'acqua per un idromassaggio ideale per alleviare i fastidi di alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Quando avrete finito di lavarvi, potrete azionare un delicato getto d'aria calda regolabile per una perfetta asciugatura. Inoltre, se volete, avete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. E attenzione! Tutte le impostazioni vengono memorizzate dalla tastiera per non essere ripetute tutte le volte che utilizzate Acqua T. Senza spostarvi sul bidet, direttamente seduti sul vostro water, avrete la vostra igiene intima perfetta. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene, freschezza, comfort. Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Purtroppo, man mano che cresceva il mio peso, aumentavano anche le difficoltà di raggiungere con facilità certe parti del mio corpo per un'igiene intima. Usavo le salviette umidificate, ma non mi davano grande soddisfazione. Poi ho incontrato Acqua T. Non pensavo esistesse un prodotto così utile. Acqua T ha risolto in un colpo solo tutti i miei problemi. Ho riscoperto la sensazione di pulito che ti può dare solo l'acqua. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Installiamo Acqua T senza opere murarie su qualsiasi water di misura standard in commercio, in poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. Chiamate per informazioni il numero che vedete. La prima volta che ho usato Acqua T mi è sembrato di rinascere. Non ho più problema di sedermi, di rialzarmi dal bidet. Senza fatica e senza muovere, fa tutto Acqua T. Se avete già difficoltà a sedervi o ad alzarvi dal water, immaginatevi con il bidet. Ancora più difficile alzarsi se non ci aiuta nessuno. E come fare per la propria igiene intima? Questo con Acqua T è solo un brutto ricordo. Lasciate entrare un fiume di freschezza nel vostro bagno. È bello sentirsi puliti e provare la sensazione di freschezza. Rivediamo allora tutto quello che vi offre Acqua T. Con la comoda tastiera posizionata al lato della seduta, utilizzate con semplicità tutte le sue funzioni. Potete riscaldare la seduta, specialmente nei mesi invernali. Azionate l'uscita degli ugelli dell'acqua perché il getto vada a lavare e detergere le parti che vi interessano. Potete regolare la temperatura dell'acqua e la sua intensità. Azionate la pressione del getto d'acqua per ottenere un delicato idromassaggio ideale per alleviare alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Inoltre, potete azionare un getto di aria calda per una perfetta asciugatura ed infine avrete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. Per la vostra igiene intima, in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. Userete normalmente il WC e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. È bello sentire quella sensazione di pulito che solo l'acqua ti può dare. Se avete bisogno dell'assistenza in bagno di un'altra persona per la vostra igiene intima, con Acqua T, il dispositivo a doppia funzione, non ne avrete più bisogno e vi aiuterà a preservare la vostra privacy. Userete normalmente il WC e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene personale perfetta in completa autonomia. Igiene, freschezza, comfort, Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Sono Anna, ho avuto tre interventi, sono otto anni, con molta difficoltà. Purtroppo ho una badante. Bravissima! Abbiamo le stesse idee, andiamo bene, è una compagnia che mi piace tanto, però al momento la mia difficoltà è lavarmi, dopo essere andato in bagno. Dopo ho lavato, dopo ho fatto tutto, l'aiuto della signora, però io non mi sento pulita. Ho incontrato questo prodotto che mi fa sentire libera, pulita, asciutta e sollevato da tutti i problemi. Mi sento una regina. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort, risolve un vero problema. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Sono veramente felice di averla acquistato. Installiamo Acqua T senza opere murarie, su qualsiasi water di misura standard in commercio, in poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. L'installazione è stata rapida, senza muratori in casa. Chiamate quindi con fiducia. Dimensione Casa si occupa da più di 30 anni di salute e benessere della persona. E Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort, risolve un vero problema. Montato sul vostro water vi permetterà di riprovare una sensazione di pulizia, freschezza, comfort che da un po' magari non provavate. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. La vedo contenta e soddisfatta perché riesce a lavarsi da sola. Non è che mi desse fastidio perché questo è il mio lavoro, però sono contenta per lei. Per la vostra igiene intima, in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. Userete normalmente il water ed in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. Chiamate adesso per informazioni. L'ho sentito tante volte in tv, ma Acqua T ti cambia veramente la vita. Igiene, freschezza, comfort. Dimensione casa presenta Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo dalla doppia funzione, in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Facile da installare, economico. Una volta provato, diventerà indispensabile nella vostra casa. Acqua T è il legame intelligente tra WC e bidet, grazie all'acqua. Scoprite una nuova cultura del bagno. Acqua T vi permetterà di provare una sensazione di pulizia, freschezza e comfort mai provati fino ad ora. Ogni vostra esperienza bagno sarà più rilassante, pulita, fresca, sana e incredibilmente piacevole. Il suo utilizzo è indirizzato a chiunque, ma è particolarmente consigliato per chi ha bisogno dell'assistenza di un'altra persona in bagno per la propria igiene intima. E attenzione! Con Acqua T non avrete più bisogno della carta igienica e del bidet. Mai come in questo caso la frase, farete tutto da soli, è più che mai veritiera. Non riuscivo più ad alzarmi dal bidet. Adesso non ho più bisogno. È una liberazione. Non faccio più fatica a lavarmi. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. Acqua T è costruito in materiale plastico trattato, antibatterico, per un'igiene totale ed è adattabile a tutti i water di misura standard. Sulla tastiera di facile lettura, posizionata a lato della seduta, potrete azionare con semplicità tutte le funzioni di Acqua T. Vi offre ad esempio una seduta confortevole che può essere riscaldata alla temperatura desiderata per vincere la sensazione di freddo quando vi sedete nei mesi invernali. Ma la vera novità di Acqua T sono gli ugelli per l'igiene intima che azionate tramite la pulsantiera a fianco della seduta. Sono due. Uno per lui. Uno per lei. Con un semplice comando, impostate l'intensità del getto d'acqua e la sua tipologia. Continuo o ad intensità variabile per una migliore azione detergente. E potrete regolare la temperatura dell'acqua per un idromassaggio ideale per alleviare i fastidi di alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Quando avrete finito di lavarvi, potrete azionare un delicato getto d'aria calda regolabile per una perfetta asciugatura. Inoltre, se volete, avete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. E attenzione! Tutte le impostazioni vengono memorizzate dalla tastiera per non essere ripetute tutte le volte che utilizzate Acqua T. Senza spostarvi sul bidet, direttamente seduti sul vostro water, avrete la vostra igiene intima perfetta. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene, freschezza, comfort. Acqua T. L'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T. non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Purtroppo, man mano che cresceva il mio peso, aumentavano anche le difficoltà di raggiungere con facilità certe parti del mio corpo per un'igiene intima. Usavo le salviette umidificate, ma non mi davano grande soddisfazione. Poi ho incontrato Acqua T. Non pensavo esistesse un prodotto così utile. Acqua T. ha risolto in un colpo solo tutti i miei problemi. Ho riscoperto la sensazione di pulito che ti può dare solo l'acqua. È bello sentire quella sensazione di pulito che solo l'acqua ti può dare. Se avete bisogno dell'assistenza in bagno di un'altra persona per la vostra igiene intima, con Acqua T, il dispositivo a doppia funzione, non ne avrete più bisogno e vi aiuterà a preservare la vostra privacy. Userete normalmente il water e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene personale perfetta in completa autonomia. Sono Anna, ho avuto tre interventi, sono otto anni, con molta difficoltà. Purtroppo ho una badante, bravissima. Abbiamo le stesse idee, andiamo bene. È una compagnia che mi piace tanto. Però al momento la mia difficoltà è lavarmi, dopo essere andato in bagno. Dopo ho lavato, dopo ho fatto tutto, l'aiuto della signora, però io non mi sento pulita. Ho incontrato questo prodotto che mi fa sentire libera, pulita, asciutta e sollevata da tutti i problemi. Mi sento una regina. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Sono veramente felice di averla acquistato. Installiamo Acqua T senza opere murarie, su qualsiasi water di misura standard in commercio. In poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. L'installazione è stata rapida, senza muratori in casa. Chiamate quindi con fiducia. Dimensione Casa si occupa da più di 30 anni di salute e benessere della persona. E Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Montato sul vostro water vi permetterà di riprovare una sensazione di pulizia, freschezza, comfort che da un po' magari non provavate. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. La vedo contenta e soddisfatta perché riesce a lavarsi da sola. Non è che mi desse fastidio perché questo è il mio lavoro, però sono contenta per lei. Per la vostra igiene intima, in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. Userete normalmente il water ed in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. Chiamate adesso per informazioni. L'ho sentito tante volte in tv, ma Acqua T ti cambia veramente la vita. Igiene, freschezza, comfort, Dimensione Casa presenta Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo dalla doppia funzione in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Facile da installare, economico, una volta provato diventerà indispensabile nella vostra casa. Acqua T è il legame intelligente tra WC e bidet, grazie all'acqua. Scoprite una nuova cultura del bagno. Acqua T vi permetterà di provare una sensazione di pulizia, freschezza e comfort mai provati fino ad ora. Ogni vostra esperienza bagno sarà più rilassante, pulita, fresca, sana e incredibilmente piacevole. Il suo utilizzo è indirizzato a chiunque, ma è particolarmente consigliato per chi ha bisogno dell'assistenza di un'altra persona in bagno per la propria igiene intima. E attenzione, con Acqua T non avrete più bisogno della carta igienica e del bidet. Mai come in questo caso la frase, farete tutto da soli, è più che mai veritiera. Non riuscivo più ad alzarmi dal bidet, adesso non ho più bisogno. È una liberazione, non faccio più fatica a lavarmi. Doveva sempre chiedere aiuto, adesso non lo faccio più. Acqua T è costruito in materiale plastico trattato, antibatterico, per un'igiene totale ed è adattabile a tutti i water di misura standard. Sulla tastiera di facile lettura, posizionata a lato della seduta, potrete azionare con semplicità tutte le funzioni di Acqua T. Vi offre ad esempio una seduta confortevole che può essere riscaldata alla temperatura desiderata per vincere la sensazione di freddo quando vi sedete nei mesi invernali. Ma la vera novità di Acqua T sono gli ugelli per l'igiene intima, che azionate tramite la pulsantiera a fianco della seduta. Sono due, uno per lui, uno per lei. Con un semplice comando, impostate l'intensità del getto d'acqua e la sua tipologia. Continuo o ad intensità variabile per una migliore azione detergente. E potrete regolare la temperatura dell'acqua per un idromassaggio ideale per alleviare i fastidi di alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Quando avrete finito di lavarvi, potrete azionare un delicato getto d'aria calda regolabile per una perfetta asciugatura. Inoltre, se volete, avete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. E attenzione! Tutte le impostazioni vengono memorizzate dalla tastiera per non essere ripetute tutte le volte che utilizzate Acqua T. Senza spostarvi sul bidet, direttamente seduti sul vostro water, avrete la vostra igiene intima perfetta. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene, freschezza, comfort. Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Purtroppo, man mano che cresceva il mio peso, aumentavano anche le difficoltà di raggiungere con facilità certe parti del mio corpo per un'igiene intima. Usavo le salviette umidificate, ma non mi davano grande soddisfazione. Poi ho incontrato Acqua T. Non pensavo esistesse un prodotto così utile. Acqua T ha risolto in un colpo solo tutti i miei problemi. Ho riscoperto la sensazione di pulito che ti può dare solo l'acqua. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Installiamo Acqua T senza opere murarie su qualsiasi water di misura standard in commercio. In poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. Chiamate per informazioni il numero che vedete. La prima volta che ho usato Acqua T mi è sembrato di rinascere. Non ho più problema di sedermi, di rialzarmi dal bidet. Senza fatica e senza muovere, fa tutto Acqua T. Se avete già difficoltà a sedervi o ad alzarvi dal water, immaginatevi con il bidet. Ancora più difficile alzarsi se non ci aiuta nessuno. E come fare per la propria igiene intima? Questo, con Acqua T, è solo un brutto ricordo. Lasciate entrare un fiume di freschezza nel vostro bagno. È bello sentirsi puliti e provare sensazioni di freschezza. Rivediamo allora tutto quello che vi offre Acqua T. Con la comoda tastiera posizionata al lato della seduta, utilizzate con semplicità tutte le sue funzioni. Potete riscaldare la seduta, specialmente nei mesi invernali. Azionate l'uscita degli ugelli dell'acqua perché il getto vada a lavare e detergere le parti che vi interessano. Potete regolare la temperatura dell'acqua e la sua intensità. Azionate la pressione del getto d'acqua per ottenere un delicato idromassaggio ideale per alleviare alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Inoltre, potete azionare un getto di aria calda per una perfetta asciugatura. Ed infine, avrete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. Per la vostra igiene intima, in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. Userete normalmente il WC e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. È bello sentire quella sensazione di pulito che solo l'acqua ti può dare. Se avete bisogno dell'assistenza in bagno di un'altra persona per la vostra igiene intima, con Acqua T, il dispositivo a doppia funzione, non ne avrete più bisogno e vi aiuterà a preservare la vostra privacy. Userete normalmente il water e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene personale perfetta in completa autonomia. Igiene, freschezza, comfort, Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Sono Anna, ho avuto tre interventi. Sono otto anni, con molta difficoltà. Purtroppo ho una badante. Bravissima. Abbiamo le stesse idee, andiamo bene. È una compagnia che mi piace tanto. Però, al momento, la mia difficoltà è lavarmi. Dopo essere andato in bagno. Dopo ho lavato, dopo ho fatto tutto, l'aiuto della signora, però io non mi sento pulita. Ho incontrato questo prodotto che mi fa sentire libera, pulita, asciutta e sollevata da tutti i problemi. Mi sento una regina. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità, scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Sono veramente felice di averla acquistato. Installiamo Acqua T senza opere murarie su qualsiasi water di misura standard in commercio in poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. L'installazione è stata rapida senza muratori in casa. Chiamate quindi con fiducia. Dimensione Casa si occupa da più di 30 anni di salute e benessere della persona. E Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Montato sul vostro water vi permetterà di riprovare una sensazione di pulizia, freschezza, comfort che da un po' magari non provavate. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. La vedo contenta e soddisfatta perché riesce a lavarsi da sola. Non è che mi desse fastidio perché questo è il mio lavoro, però sono contenta per lei. Per la vostra igiene intima, in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. userete normalmente il water ed in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. Chiamate adesso per informazioni. L'ho sentito tante volte in tv, ma Acqua T ti cambia veramente la vita. Igiene, freschezza, comfort. Dimensione Casa presenta Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo dalla doppia funzione in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Facile da installare, economico, una volta provato, diventerà indispensabile nella vostra casa. Acqua T è il legame intelligente tra WC e bidet, grazie all'acqua. Scoprite una nuova cultura del bagno. Acqua T vi permetterà di provare una sensazione di pulizia, freschezza e comfort mai provati fino ad ora. Il suo utilizzo è indirizzato a chiunque, ma è particolarmente consigliato per chi ha bisogno dell'assistenza di un'altra persona in bagno per la propria igiene intima. E attenzione! Con Acqua T non avrete più bisogno della carta igienica e del bidet. Mai come in questo caso la frase «farete tutto da soli» è più che mai veritiera. Non riuscivo più ad alzarmi dal bidet. «adesso non ho più bisogno». È una liberazione. Non faccio più fatica a lavarmi. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. Acqua T è costruito in materiale plastico trattato, antibatterico, per un'igiene totale ed è adattabile a tutti i water di misura standard. Sulla tastiera di facile lettura, posizionata a lato della seduta, potrete azionare con semplicità tutte le funzioni di Acqua T. Vi offre ad esempio una seduta confortevole che può essere riscaldata alla temperatura desiderata per vincere la sensazione di freddo quando vi sedete nei mesi invernali. Ma la vera novità di Acqua T sono gli ugelli per l'igiene intima che azionate tramite la pulsantiera a fianco della seduta. Sono due. Uno per lui, uno per lei. Con un semplice comando, impostate l'intensità del getto d'acqua e la sua tipologia. Continuo o ad intensità variabile per una migliore azione detergente. E potrete regolare la temperatura dell'acqua per un idromassaggio ideale per alleviare i fastidi di alcune patologie specifiche ed attenuare arrossamenti della pelle. Quando avrete finito di lavarvi, potrete azionare un delicato getto d'aria calda regolabile per una perfetta asciugatura. Inoltre, se volete, avete la possibilità di usufruire della funzione di deodorizzazione. E attenzione! Tutte le impostazioni vengono memorizzate dalla tastiera per non essere ripetute tutte le volte che utilizzate Acqua T. Senza spostarvi sul bidet direttamente seduti sul vostro water, avrete la vostra igiene intima perfetta. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene, freschezza, comfort. Acqua T. L'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T. Non è soltanto una straordinaria occasione di comfort. Risolve un vero problema. Purtroppo, man mano che cresceva il mio peso, aumentavano anche le difficoltà di raggiungere con facilità certe parti del mio corpo per un'igiene intima. Usavo le salviette umidificate, ma non mi davano grande soddisfazione. Poi ho incontrato Acqua T. Non pensavo esistesse un prodotto così utile. Acqua T ha risolto in un colpo solo tutti i miei problemi. Ho riscoperto la sensazione di pulito che ti può dare solo l'acqua. È bello sentire quella sensazione di pulito che solo l'acqua ti può dare. Se avete bisogno dell'assistenza in bagno di un'altra persona per la vostra igiene intima, con Acqua T il dispositivo a doppia funzione non ne avrete più bisogno e vi aiuterà a preservare la vostra privacy. userete normalmente il water e in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. E attenzione! Funziona solo se ci siete seduti sopra. Igiene personale perfetta in completa autonomia. Igiene, freschezza, comfort, Acqua T, l'evoluzione moderna del bidet tradizionale. Un dispositivo in grado di migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. Sono Anna, ho avuto tre interventi, sono otto anni, con molta difficoltà. Purtroppo ho una badante. Bravissima! Abbiamo le stesse idee, andiamo bene, è una compagnia che mi piace tanto, però al momento la mia difficoltà è lavarmi, dopo essere andato in bagno. Dopo ho lavato, dopo ho fatto tutto, l'aiuto della signora, però io non mi sento pulita. Ho incontrato questo prodotto che mi fa sentire libera, pulita, asciutta e sollevato da tutti i problemi. Mi sento una regina. Chiamate quindi con fiducia. Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort, risolve un vero problema. Un nostro tecnico verrà a casa vostra per un sopralluogo senza impegno da parte vostra. Con la sua professionalità scoprirete che se avete un problema come questo, dopo non l'avrete più. Sono veramente felice di averlo acquistato. Installiamo Acqua T senza opere murarie, su qualsiasi water di misura standard in commercio, in poco tempo e senza modificare e sporcare il vostro bagno. L'installazione è stata rapida, senza muratori in casa. Chiamate quindi con fiducia. Dimensione Casa si occupa da più di 30 anni di salute e benessere della persona. E Acqua T non è soltanto una straordinaria occasione di comfort, risolve un vero problema. Montato sul vostro water vi permetterà di riprovare una sensazione di pulizia, freschezza, comfort che da un po' magari non provavate. Doveva sempre chiedere aiuto. Adesso non lo faccio più. La vedo contenta e soddisfatta perché riesce a lavarsi da sola. Non è che mi desse fastidio perché questo è il mio lavoro, però sono contenta per lei. Per la vostra igiene intima in piena autonomia, oggi c'è Acqua T, il dispositivo a doppia funzione. userete normalmente il water ed in più, senza muovervi, avrete la comodità del bidet. Chiamate adesso per informazioni. L'ho sentito tante volte in tv, ma Acqua T ti cambia veramente la vita.